Abbiamo un altro protagonista e poi chiuderemo davvero qui da Perugia, Manuel Pucciarelli, altro grande protagonista di questa gara. Tra l'altro il gol segnato sul rigore ha avuto un grande valore perché vi ha schiuso le porte di questa salvezza. Manuel Pucciarelli mancato dopo il tuo arrivo per problemi fisici, poi però sei riuscito a recuperare e a dare il tuo contributo. Sì, mi sono fatto male praticamente il primo giorno, quindi volevo esserci per questo finale. Come ho sempre detto non è stato facile, l'infortunio è abbastanza brutto, me lo sono portato dietro per tante partite, però alla fine volevo esserci e per fortuna è andata bene. Manuel Pucciarelli che in passato qualche brutto regalo al Pescara lo aveva fatto segnando gol anche in partite importanti. Insomma questa sera volevi rifarti con gli interessi, insomma questa prestazione, questo gol segnato sul rigore, ma direi le prestazioni delle ultime settimane hanno fatto vedere il vero Pucciarelli. Sì, sì, stavo bene, nelle ultime due settimane stavo veramente bene come mai quest'anno, quindi è stato tutto più facile, quando c'è la condizione poi in campo vai forte. Qualche settimana fa ha scucchiato? No, 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 è questo, quindi sono solo contento, non posso dire altro perché non ho parole, è un'emozione così mai provata. Che cosa avete pensato? Voi eravate un po' dietro quando avete visto il pallone di Masciangelo sul dischetto e poi quella palla all'incrocio dei pali. No, ha battuto un rigore incredibile, quindi... Una freddezza da veterano? No, ma non è che non ce l'ha rispettato mai perché lui ha comunque un gran piede, però battere il rigore così è veramente un segno che è veramente incredibile, che poi comunque non è facile battere il rigore in queste occasioni. Ha fatto una cosa incredibile, poi comunque ha fatto anche una grande partita, quindi complimenti a lui. Per chiudere, davvero Maniero con 7 gol ha strappato la conferma il contratto per la prossima stagione. Puccerelli aveva detto se le cose dovessero andare bene parlerò con i dirigenti, con la società perché sarebbe mia intenzione restare a Pescara confermi. Sì, sì, sicuramente non sarà facile, non è una trattativa facile per via di tanti motivi, contrattuali, però vedremo. Maniero se l'è confermata non solo per i gol secondo me perché io che gioco insieme so quanto è forte, per me è veramente un attaccante forte Maniero. E niente, poi non è facile in queste ultime partite, giocare ogni tre giorni così non ci sta a sbagliare qualche partita, è una situazione troppo strana, però è forte. L'ultimissima, Sottil, cosa ha dato al Pescara in queste ultime settimane? Ha dato tanta cattiveria che magari un po' ci mancava e ha fatto in modo di essere un gruppo, di essere un gruppo unito che anche nelle difficoltà si tirava fuori e penso che l'abbiamo dimostrato.